Ok ragazzi, serio ho trovato una foto incredibile, solo i fan veri capiranno questa forma L'abbiamo scattata quando tutto il vlog team stava a Londra, guarda quanto è storto monte Buongiorno vlog fammi e ben... ok ragazzi non lo so fare Però comunque buongiorno, forza mi e ben tornati a questo nuovo video vlog Aia Mi ha fatto malissimo, ok non me l'aspettavo E ragazzi indovina chi mi è venuta a trovare Lei E lei mi è venuta a fare una bella sorpresa Qual è questa sorpresa? Non lo so manco io, io lo spieghi per favore che non ho capito perché stai qua Niente, mi sono venuta a trovare perché mi mancava Gli mancava ragazzi, perché faccio questo effetto alle ragazze Eh vabbè Ok ragazzi è veramente cringe questa cosa, però ora mi spiego cosa dovremmo fare Allora ragazzi come potete vedere guarda dove stiamo Stiamo nella vlog house Guarda c'è il mio miglior amico Giovanni che sta qua Ciao sono Giovanni Ciao in Giorgia Che errate Comunque oggi voglio fare un video fantastico E ora vi spiegherò cosa faremo oggi, però ci serve qualcosa per spiegarlo Quindi aspetta un attimo 3, 2, 1 Ok ragazzi ecco la bellissima ruota della tortura Vediamo cosa esce Lasciatemi Grazie ruota, mi hai aiutato Sì ora ci abbiamo la ruota della tortura qua Perché mi è venuta un'idea incredibile Per favore glielo spieghi Ok ragazzi Qual è l'idea? È decelebrata, lasciamo stare, faccio io In pratica lui vuole fare un altro appuntamento Ok stop Come l'ha spiegato Giorgia faceva veramente rate Quindi lo faccio io Allora avrò un appuntamento con Giorgia E la ruota della tortura deciderà tutte le cose che farò con Giorgia Quindi la ruota della tortura deciderà il nostro primo appuntamento È sinceramente secondo su youtube però vabbè Ok ragazzi ogni volta che dobbiamo girare la ruota Cambiamo posizione Comunque stiamo nella sauna ora Come primo posto E io direi di accendere le luci per pensire No ma ci stanno le luci No L'ho distrutta ragazzi che bravo Salve ragazzi Oh no Iniziamo subito con il primo giro Dopo il tuo lo faccio io Io Ok faccio io No è successivo Botte Botte Facciamo botte Ok ok ragazzi non è stato male Ci ha fatto un pochetto male Sì come no Ok allora ragazzi io direi di cambiare location una per fare il secondo giro Agio ma la vera domanda è Dove è andato Dani? Non ne ho Cioè è Questa ruota Questa ruota Guarda quanto è strano Oh oh What the fuck Oh no Oh no panico No 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 Non buono Non buono Ragazzi non siamo entrati in questa stanza Che manco sapevo l'esistenza di questa stanza Che ho trovato Una sauna piccola E un posto per appruzzarsi Veramente strano Però facciamo il secondo giro E questa volta lo fa Giorgia Ok allora siamo pronti Vai Giorgia Vai Alla Ragazzi Regalo Va bene Allora te Dovrei ricevere un regalo Dovrei ricevere un regalo da te Si Dai Va bene Allora poi aspettate qua Parlate un po' Io vado a prendere questo bel regalo Va bene Buonessa Ho paura Avram ma quanto ci sta mettendo Dani Sto Eccolo Ti ho preso una cosa veramente assurda Un regalo bellissimo Sono sicuro che farà schifo Te fai schifo No è il Dommi Che fegno È un segno d'amore questo Ok ragazzi io direi che ci spostiamo Vediamo un altro posto Ok ragazzi siamo spostati Che ora stiamo in piscina Cioè Non basta Non basta Ora rigiriamo la ruota della tortuna Vai Ok ragazzi Finalmente È arrivata una cosa decente per me Allora a te Mi devi dedicare una canzone Se vuoi lo puoi pure fare qua Vai ragazzi Non vedo l'ora di sentire questa canzone bellissima Da Lady Georgia E Aljuk Vai Ok ragazzi Ora ci siamo spostati Al pianoporte Guarda quanto è bello Infatti c'è tutto Tutte le cose dell'amore qua sopra Quindi è proprio perfetto Siamo arrivati in questa casa A incontrare un pallido Ok mi stanno insulta a grepe eh Mi hanno distrutto Ok non sanno cantare comunque No raga lasciamo stare Fanno rate Non sanno cantare Non sanno fare niente Quindi andiamo al prossimo giro Ok allora ragazzi Ci siamo spostati Ora siamo nella vlog room Però perché sono andato via Guarda Non ci sono più Non c'è più niente Serio Niente Che tessere Ci sono andati i cartelloni Che sei un cartellone Comunque Allora ragazzi Sposati Ci dobbiamo sposare Stai pronta? Si dai vai Va bene vai Stiamo pronti Ok ragazzi Stava piovendo Quindi non potevamo andare fuori Quindi mi sono messo davanti A un telo bianco E ho messo un altare Come sfondo E' uscito un risultato A dir poco Patetico Divertitevi Voi tu Youtuber Leri Giorgia Sposare lo Youtuber Daniele Montani Ti do uno schiaffo Se dici Non sa cosa dire No Dai scherzo Si Ok ha detto si Voi tu Youtuber Daniele Montani Sposare la Youtuber Leri Giorgia Forse Forse Dai si Una bella risposta Ok Ok Poi com'era? Dal potere me conferito Da Gesù Bellissimo Vi auguro Una buona vita Con molte Litigi E picchiatevi Vai Perfetto Che carino Però ci dovrebbe stare il bacio Dopo Baciatevi Vai Mi prego Ok allora ragazzi Sembrava veramente strani Siamo in questa stanzetta Piccola In una stretta Allora lo gira il prete Sì è vero ci sta Vai prete Il prete gira Vai Io intanto Intanto vi faccio vedere Sto schifo qua Quindi guarda che bello Il vostri giattolo Ciao ciao Regà cosa è uscito? Cosa è uscito? Ah è andato vai Eh? Ma come vi ho appena Lasciateli No Vi ho appena sposato No E quindi da adesso Basta vi lasciate Ci siamo divorziati Va bene Ok ragazzi Io direi perché ci siamo Lasciati Di prenderci a schiaffi Ok ragazzi L'ha rovinata La ruota ha detto Che ci dobbiamo lasciare Quindi È finita Cioè E l'appuntamento È finito Ok Come è stato? Divertente Divertente Perciò Non inquadrarmi così vicino Eh ragazzi Lei c'ha i problemi C'ha i problemi mentali Mi dispiace Comunque ragazzi Spero vi sia piaciuto il video Cosa devono fare? Iscriversi al mio canale Lasciate un bel like Ok allora Disiscrivetevi dal suo canale Iscrivetevi al suo canale Ovviamente al mio canale Vi dovete iscrivere Quello migliore di tutti Però la uccidiamo E la nascondiamo Là sotto La nascondiamo lì sotto Eh ragazzi Prima avevo detto Che Giorgia C'aveva i problemi Ma pure Aglio Mica scherza Ok ragazzi Finalmente il video è finito Spero che vi è piaciuto il video Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi E lasciate pure un bel commento Perché mi servono idee Per il prossimo video Bella